La digital art in realtà è un nuovo modo espressivo. Come Magritte negli anni 60 usava la matita, in futuro gli artisti useranno l'arte digitale. Untitled Magritte non è solo il primo episodio di una serie di eventi che secondo noi è destinata a durare nel tempo ma è soprattutto la prima vera occasione per il Valor Studio di aprire le porte di una galleria di arte digitale che abbiamo a Paradiso. Abbiamo voluto realizzare questo nuovo modo di esporre un'opera fisica in un contesto digitale, multimediale, virtuale. E questo che vedete intorno è il museo che la conterrà in futuro. Questa opera è stata realizzata da Magritte nell'ultima parte della sua vita. Il tema del pesce e della finestra sull'infinito è un tema che lui ha iniziato ad affrontare verso la fine degli anni 50. E questo tema secondo noi si lega moltissimo a tutto questo che ci circonda. Crediamo che quello che si può vedere oggi sia concretamente la visione di quello che si andrà a fare in futuro assieme. Grazie per la visione!